Tu hai vent'anni, vivi a Peseggia, ma ti ho visto qua a Padova fare questi rumori. Cosa sei un rumorista? No, io faccio beatbox, che è una forma d'arte dove l'uomo, la persona, riesce a generare suoni utilizzando voce, bocca e diaframma. E come hai imparato? Ho iniziato in seconda media grazie alla mia professoressa di musica, la quale mi faceva vedere un video su YouTube e da lì ho iniziato a fare, fare, fare. Spiegami questa cosa della bocca, diaframma e voce. Io utilizzo bocca, diaframma e voce. Fammi un esempio. Tipo ad esempio, per fare la batteria io creo pressione con la bocca, come... Oppure utilizzo la voce per creare dei suoni, come ad esempio... Beh, posso anche unire dei suoni della batteria con la voce, come ad esempio... Dove metto il suono e la voce dal naso assieme, contemporaneamente. È pazzesca sta cosa, ma quanto ci hai messo a imparare a fare queste cose qua? Diciamo che lo faccio da sette anni, però sono cinque anni che partecipo ai venti tornei e insomma sto facendo un po' di esperienze sul palco anche nell'ultimo periodo. Quindi ci sono i campionati di questa specialità? Esatto, io ho vinto due volte di fila, il campionato in coppia e una volta da solo, quindi sono tre volte campione italiano. E mi hai detto che andrai anche ai campionati europei? Esatto, parteciperò a Graz, agli europei e ad agosto ai mondiali. Io ho frequentato una scuola per parrucchiere e ho fatto anche la specialistica, quindi ho il triennale più lo specialista. Qui saresti un parrucchiere? Sono un parrucchiere. Un giovane parrucchiere, ma... Che fa suoni. Un giovane parrucchiere che fa suoni. Ho anche creato un corso dove insegno a moltissimi ragazzi in tutta Italia come si fa beatbox e potete trovarlo sul mio profilo Instagram. Allora, grazie Alberto e buongiorno mattino. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.